Musica Nella solennità di tutti i santi il Vescovo Tanasini ha esortato i fedeli a rivolgere lo sguardo al cielo, anche la tribolazione del tempo presente ha il suo sbocco nella gloria della vita beata. Indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi, conta la tua apertura al mistero, la testimonianza di Marco Gallo, giovane originario di Casarza Ligure prematuramente scomparso, a Montallegro ad ogni santi la messa di ricordo. Per Dio nessun uomo è perduto, nella celebrazione per i defunti il Vescovo ha ricordato che la morte è un passaggio alla vita. Celebrati a Chiavari i funerali di Don Guido Balzarini, il Vescovo Emerito di Piacenza Bobbio ha sottolineato del sacerdote la fede sincera e l'umanità gioiosa. Accogliere, condividere, offrire il proprio tempo. Nell'ultimo incontro formativo per educatori e genitori, Matteo Santini, della Papa Giovanni, ha indicato le tre vie per amare il prossimo. La comunità di Santo Stefano Lavagna ha salutato con affetto Don Stefano Queirolo, un uomo sempre attento alle persone e all'essenzialità nella fede, hanno detto i parrocchiani. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della Diocesi di Chiavari e della Chiesa Universale. Iniziamo questa settimana dalle celebrazioni in occasione della solennità di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti. Nel giorno del primo novembre, solennità di ogni santi, Monsignor Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto e ha esortato i fedeli a distogliere lo sguardo da se stessi per elevarlo verso il cielo. Solo così, ha detto il pastore della Diocesi, è possibile pregustare la pienezza della vita eterna. Il Vescovo ha indicato l'esempio di Carlo Acutis, il giovane quindicenne prematuramente scomparso e recentemente elevato agli onori degli altari. Vediamo. È un'immagine gloriosa e di festa quella tratta dal libro dell'Apocalisse che narra la visione di Giovanni, una moltitudine immensa avvolta in vesti candide con in mano rami di palma posta davanti al trono di Dio. Ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, ha spiegato il Vescovo Alberto Tanasini nella solennità di tutti i Santi, viviamo questa grande festa, anche nel tempo presente che ci sopraffa di impegni e di preoccupazioni. A quella meta a cui siamo tutti chiamati si arriva dopo grande tribolazione. E la grande tribolazione per Giovanni è la grande persecuzione. Tutti hanno nelle mani delle palme quelle che noi chiamiamo le palme del martirio. Ma la grande tribolazione è anche la nostra esperienza, che è chiamata ad avere il suo sbocco nella gloria. La gloria della vita beata, ha quindi sottolineato il Vescovo nella celebrazione preseduta in cattedrale a Chiavari, c'è già anche nella prova che stiamo vivendo in questi giorni. Che il nostro cammino sulla terra certo è provato, ma niente può spegnere quella luce, quello sguardo di speranza, quella bellezza dell'incontro con il Padre che sta nei cieli e con i fratelli. Ecco, fare la festa dei Santi vuol dire guardare in questa direzione, vivere con certezza questa vocazione. La riflessione sul Vangelo delle Beatitudini ha suggerito a Monsignor Tannasini la figura di Carlo Acutis, quindicenne elevato agli onori degli altari, nelle scorse settimane. Noi pensiamo che oggi non ci sia più strada di santità, detto il Vescovo. Non è vero. Il beato Carlo Acutis è stato appieno un ragazzo del suo tempo, affascinato da Gesù Cristo. Sapeva gettarsi nella mischia, cogliere tutte le ispirazioni. Aveva compreso che per non essere tristi occorre distogliere lo sguardo da noi stessi e rivolgerlo verso l'alto. Spostando lo sguardo troviamo il principio della vita beata. Nove anni fa in un incidente stradale avvenuto a Caratebrianza perdeva la vita improvvisamente Marco Gallo, un giovane originario di Casarza Ligure, aveva 17 anni, si era trasferito con la famiglia in Lombardia per ragioni di lavoro legate alla professione del padre. Marco, come detto, aveva solo 17 anni ma ha lasciato una grande testimonianza di fede, una testimonianza, possiamo dire oggi, molto contagiosa. Ogni anno, il primo novembre, per ricordare Marco, ma non solo, per approfondire la propria esperienza di fede, centinaia di ragazzi dalla Liguria e dalla Lombardia raggiungono il santuario Mariano di Montallegro. Quest'anno ovviamente non è stato possibile, c'è stata però la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Pino De Bernardis e trasmessa attraverso i canali di Telepace proprio per poter permettere di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Vediamo. Marco Gallo è un ragazzo che ha vissuto appieno il suo tempo, gli amici lo definiscono un uragano di vita, una vita inaspettatamente interrotta a soli 17 anni il 5 novembre 2011 a causa di un incidente stradale ma illuminata da un'intuizione affidata ad uno dei tanti iscritti lasciati da Marco e trovate dai suoi familiari dopo la morte del giovane. Marco ha scritto, indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi, conta sempre e solo la tua apertura al mistero. Nella messa, celebrata al santuario di Montallegro nel rispetto delle normative anticontagio, Don Pino De Bernardis ha riletto la vita di Marco alla luce della solennità di tutti i tanti, la festa di coloro che hanno realizzato pienamente la loro vita e godono oggi e per sempre della pienezza di gioia a cui tutti tendiamo. Marco ha vissuto la grande, l'avventura della sua esistenza, sollecita a ciascuno di noi a domandare un cuore appassionato del dono del tempo. Nell'istante si gioca l'eterno. Marco ha testimoniato un grande fascino per l'esistenza, ha proseguito il presule. Desiderava Gesù Cristo perché questa è la santità. Da qui l'invito a non distogliere lo sguardo da tutto ciò che sta accadendo in questo tempo di dolore e quindi di grazia. Quante volte mi trovo a pensare a Marco, due giorni prima che morisse l'ho visto, desideroso così e oggi questo suo desiderio si è compiuto. La nostra responsabilità è di camminare verso il destino per cui il Signore ha voluto donarci la vita, guidati da testimonianze come quella di Marco affascinato dal mistero. L'amico Marco con la sua ironia sorride di me vecchietto, ma è entusiasta perché comunque ho mantenuto vivo l'entusiasmo che lui ha vissuto nei suoi brevi anni. Ora torniamo alla celebrazione in occasione della commemorazione dei fedeli defunti presieduta dal vescovo in cattedrale nel corso della quale il pastore della diocesi ha messo in luce che la morte non è la fine ma un passaggio alla vita perché nessun uomo per Dio è perduto. Come affrontare il mistero della morte oggi? Parte da qui la riflessione del vescovo nel giorno dedicato ai defunti. Una domanda seria spiega di fronte all'atteggiamento di chi parla, di chi non c'è più, come di chi è arrivato alla fine e sopravvive soltanto nei ricordi. In realtà, dice Tanasini, Dio ha creato gli esseri viventi quali portatori di vita, di una vita che non finisce. Quando diciamo che la morte è la fine, ci ripieghiamo su noi stessi e non guardiamo oltre. Se la morte è la fine e dopo non c'è nulla, allora perché non dobbiamo togliere la vita a chi soffre, a chi è di peso? C'è una sottile logica nel nostro modo di parlare della morte ed è una logica di morte. mentre noi siamo invitati a guardare la morte come passaggio, passaggio alla vita. Questa nostra celebrazione, prosegue il vescovo, è dunque un momento per esaltare la vita, è in realtà un segno di speranza e di gioia. La vita, donata una volta dal Padre, non viene mai ritirata. Dio è fedele. Il gesto più grande che possiamo compiere, conclude Tanasini, è pregare per i morti, soprattutto per coloro che ne hanno bisogno per entrare nella gloria di Dio. Allora diventa nostra carità il pregare per loro, il suffragare loro. Diventa un grande gesto di carità il pensare a loro perché abbiano la vita eterna nella gloria del Padre. In cattedrale è stato celebrato il funerale di Don Guido Balzarini, il sacerdote originario del Piacentino che ha svolto tutto il suo ministero pastorale nella nostra diocese, insegnando anche al liceo classico del Pino di Chiavari. Don Guido aveva 89 anni a celebrare le esequie. Monsignor Gianni Ambrosio. Cordiale, effervescente, sempre aperto al dialogo, lo ricordano così i sacerdoti della diocesi Don Guido Balzarini, scomparso questa mattina all'età di 89 anni. Il sacerdote non faceva parte della nostra diocesi, nato a Ottone, in provincia di Piacenza, il 29 marzo 1931 e ordinato a Bobbio nel giugno del 1954, dove poi è stato incardinato, giunse a Chiavari dopo aver ottenuto la cattedra di filosofia e storia al liceo classico del Pino. Qui ha insegnato per diversi anni fino al pensionamento. Anche in seguito è rimasto in diocesi, pur non avendo particolari incarichi pastorali. Aiutava dove poteva, era impegnato nel movimento ecclesiale di impegno culturale e partecipava a incontri di preghiera per i maestri cattolici. Si occupava di sostenere l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Don Balzarini era ospite della Casa del Clero da una decina di anni, negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate. Telepace lo aveva intervistato l'ultima volta nel 2018 al compleanno di Monsignor Nicola Tiscornia, a cui il sacerdote piacentino era molto legato. E' stato il primo sacerdote arrivato a Chiavari nell'ottobre del 1975, il quale appena mi ha incontrato mi ha invitato nella sua parrocchia a Ribasso a celebrare la festa della Madonna Immacolata. E mi ha fatto fare la novena, la giorno della festa, con tutta la processione. Da questo incontro particolare non mi sono più staccato da lui, specialmente quando è andato in pensione. E' stato assetato di Dio Don Guido Balzarini, come uomo, educatore e prete. Lo ha sottolineato il Vescovo Emerito di Piacenza Bobbio, Monsignor Gianni Ambrosio. La sua era una sete personale, ma era attento anche a quella degli altri. Andava incontro a tutti e non dimenticava chi era in difficoltà. Monsignor Ambrosio ha sottolineato di Don Balzarini la sua fede sincera e la sua umanità gioiosa. Aperta a tutti, deciderosa di volere bene a tutti. In lui abbiamo visto il prete che ha vissuto con dedizione il suo servizio, in coerenza con la propria vocazione. La sua buona umanità e il suo ministero sono stati un dono di Dio per tutti. Ordinato a Bobbio nel 1954 fu subito parroco a Torrio, un territorio con poche comodità, ma di cui il giovane Balzarini si prese cura con impegno e sacrificio. Laureato in storia e filosofia a Genova, insegnò queste materie prima a Pallanza sul Lago Maggiore fino al 1972, poi a Piacenza fino al 1975 e infine a Chiavari al Liceo del Pino, dove rimarrà per 16 anni fino al pensionamento. Originario di Ottone nel Piacentino, è sempre rimasto in diocesi a Chiavari aiutando come poteva. Consulente ecclesiastico del CIF e dell'UCIM, da dieci anni era la casa del clero dove si è spento. Pur nell'inevitabile declino fisico, continua a esprimere le qualità che in tutta la sua vita ha espresso e testimoniato. La sua generosità, la sua intelligenza, il gusto per le cose belle e profonde, la capacità di voler bene, l'umiltà di riconoscere i suoi sbagli e di chiederne scusa, l'entusiasmo per la vita, la gioia di stare insieme agli altri. Domenica scorsa i fedeli della comunità parrocchiale di Santo Stefano a Lavagna hanno voluto tributare un indirizzo di saluto a Don Stefano Queirolo, il sacerdote che per raggiunti limiti di età lascia dopo oltre 20 anni la guida della comunità parrocchiale. Al termine della celebrazione della messa sono stati consegnati due doni a Don Stefano e è stata l'occasione per un semplice indirizzo di saluto da parte dei parrocchiani accompagnati dalle note della banda. Abbiamo raggiunto alcuni dei parrocchiani di Lavagna per farci raccontare com'è andata e poi abbiamo intervistato anche Don Stefano. Vediamo. Schivo, discreto, ma sempre molto sollecito e attento alla persona. Un uomo che bada al sodio e all'essenzialità nel rapporto con le persone così come nel rapporto con Dio. Così la comunità lavagnese di San Don Stefano descrive Don Stefano Queirolo, sacerdote della parrocchia per quasi 20 anni, giunto al termine del suo percorso pastorale. Domenica, durante la celebrazione eucaristica dell'11.30, i fedeli hanno voluto salutarlo e ringraziarlo in modo semplice, senza frastuono, così come piace a Don Stefano. Il saluto a Don Stefano è stato molto sincero, molto breve e semplice, però fatto con tanto affetto perché Don Stefano è stato parroco per quasi 20 anni ed è molto stimato nella nostra parrocchia. È stato vissuto all'insegna della semplicità e dell'essenzialità, caratteristiche della sua vita e del suo ministero. Ma è stato un momento emozionante, penso, per tutta la comunità perché ormai erano tanti anni che era qui con noi Don Stefano. Al termine della messa i parrocchiani gli hanno consegnato due doni, un buono per fare una vacanza in montagna e una foto della festa di Nostra Signora del Carmine di quest'anno, onorata, senza la processione, ma con un momento di preghiera in riva al mare. Un'immagine che sintetizza fedelmente il suo modo di vivere la fede. In punta di piedi sono venuto, in punta di piedi me ne vado. Queste sono le parole che Don Stefano, in queste ultime settimane, dice a chi lo ringrazia e lo saluta. Credo sia in queste parole tutta la ricchezza del suo lungo e fruttuoso ministero fra noi. Allora, Don Stefano non amava il frastuono. Anche nelle grandi solennità ha sempre sottolineato il fatto che al centro ci fosse Gesù, ci fosse, non so, per la festa della Madonna, fosse la Madonna, Santo Stefano, i santi che venivano celebrati. Per cui ha sempre badato molto all'essenziale. Che poi era molto attento, sempre molto attento a tutto. Però poi, insomma, lasciava lavorare le persone della comunità, era contento che le persone della comunità lavorassero. A salutare Don Stefano era presente anche il Corpo Bandistico Città di Lavagna, che ha accompagnato la sua uscita dalla Basilica. È stata la nostra iniziativa perché ci tenevamo come associazione a salutare Don Stefano dopo tanti anni di collaborazione sulla Città di Lavagna. Ma è sempre stata una collaborazione molto stretta, con interscambi di idee e con la massima disponibilità da parte di entrambi. È stata una giornata interessante, anche se io all'inizio l'ho subita perché non me l'aspettavo. E poi però è stata una cosa bella, anche perché io avevo ventilato l'idea, ma adesso non si può fare, di chiudere il mio ministero qui con un bel tedeum a più voci. Ma adesso non si può interpellare i coristi, non si possono interpellare i maestri, e per cui a un certo punto di loro iniziativa hanno pensato di cantare un tedeum, che io ho gradito. E poi mi hanno fatto un regalo di una cosa che a me pare interessante, cioè mi hanno regalato dentro un quadro la fotografia della statua di Nostra Signora del Carmine, mentre la portano, perché si vede che loro hanno capito che io amo le processioni, ironia. E allora mi hanno regalato questo, una provocazione forse, non lo so. Comunque è stata una cosa molto bella. Poi c'è stato un altro omaggio di una specie di invito a fare un po' di turismo, però io non so se utilizzerò questo oppure bypasserò il tutto. Devo dire che la celebrazione della Messa è stata una celebrazione normale, con il nostro corretto, che si è comportato bene, e con tanta gente. C'era il sindaco, c'era la banda, eccetera. È stata una cosa gradevole, anche se avrei gradito in punta di piedi andarmene via. Una delle cose che i parrocchiani hanno sottolineato di questo momento è stato che loro volevano farlo, perché comunque è grande l'affetto che lega loro a lei, però avevano tutti un pochino di timore che lei potesse non apprezzare, perché non ama tanto queste feste, queste manifestazioni. È così? Ma si vede che mi conoscono ogni tanto delle impennate di rifiuto, ma però ho pensato che tutto sommato era meglio rassegnarci ad accettare questa cosa. Ho spento i miei impulsi deteriori e ho cercato di sopravvivere. Questi 19 anni a Lavagna come l'hanno aiutata nel suo percorso di fede e a compiere quello che diciamo è l'ufficio del suo magistero? Devo dire che mi hanno aiutato tanto, perché Lavagna magari non tutti riescono ad apprezzarla, ma è una parrocchia dove si può guardare negli occhi e negli occhi si intravedono domande e anche perplessità e anche dubbi, anche richieste un pochino magari esagerate, perché qui dobbiamo stare attenti perché il dato tradizione è un dato consolidato, ma è anche bello. In questo periodo come ha visto cambiare Lavagna? Ebbene, Lavagna è cambiata tanto perché ci sono delle cose che sono consolidate in tutto il Tigullio, cioè gente che arriva, gente che poi non si vede più, turisti, più o meno per caso. Devo dire però che quelli che frequentano la Chiesa, e non sono pochi, sono molto plasmabili e tutto sommato riescono a riconoscere quanto uno cerca di spendersi per loro. Questo lo sanno tranquillamente. I suoi padocchiani, parlando di lei, dicono che è molto attento, è sempre molto attento all'essenzialità delle cose. Ecco, se dobbiamo parlare di essenzialità, cos'è di essenziale che si porta via da Lavagna, da questa esperienza? L'essenzialità è quello, è un mio punto di vista un pochino, diciamo che non tutti riescono a intuirlo, cioè l'essenzialità non è il prete che cambia, ma è Cristo che resta, e quello è l'essenziale. La sua parola è Cristo che resta, per cui io credo che non cambierà niente con l'arrivo di Don Federico. Credo che lui c'è ancora e ci sarà sempre, intendo dire Cristo e basta. Ha parlato con Don Federico, gli ha fatto magari un augurio? Ah beh sì, con Don Federico siamo molto amici e non è sempre facile essere amici con i preti, però con Don Federico siamo rimasti a livello collaborativo molto presenti. E poi io non ho nessuna remora a chiedere delle cose a lui e lui non ha nessuna remora a chiedere delle cose a me. Questo è capitato in questi anni. Adesso io sono fiducioso che lui faccia molto bene, perché qui c'era bisogno di un po' di rinnovamento. E il rinnovamento, quando c'è l'essenziale, è auspicabile, altrimenti siamo dentro il folklore o lo show. Non amo queste cose, tanto per intenderci. Adesso che avrà più tempo libero, ha già qualche programma, ha già inventato qualcosa? Ha detto che forse non userà il buono che le hanno fatto per la villeggiatura, ma ha già qualche progetto? Ma io ho delle piccole nostalgie. Potrei poter passare un Natale da spettatore, se si può dire così una parola brutta, ma dopo essere stato sempre vicino a Lambone, vedermi un po' il Natale come tutti i fedeli lo vivono, per esempio. Poi qualche giretto me lo farò, sperando che ci sia la neve e sperando che non ci chiudano sempre di più. Poi altre cose, io ho detto al vescovo che per qualche servizio sarei disponibile, non sempre nella stessa parrocchia, ma così se lui ha bisogno io vado, ma non per due domeniche di seguito, una volta, ogni tanto, cambiando. E poi credo che mi potrò interessare un pochino dell'Istituto Sivori Devoto quando ci permetteranno di andare. Sono 120 anziani che hanno veramente bisogno, hanno il desiderio di pregare la celebrazione dell'Eucaristia. Non possiamo deluderli, anche se qualche presidente di regione dice lasciateli perdere, i settantenni. Ma noi facciamo un po' di resistenza. E sabato alle 15, Don Federico Tavella farà il suo ingresso, accompagnato dal vescovo come nuovo parroco della comunità di Santo Stefano a Lavagna. Don Federico mantiene l'incarico di parroco di Maria Madre della Chiesa, sempre a Lavagna, e sarà aiutato in questo duplice servizio pastorale da Don Andrea Costa, il sacerdote novello, che è stato nominato vice parroco. Aiuto pastorale Don Stefano Libini, che mantiene l'incarico di parroco di Nostra Signora del Ponte, sempre a Lavagna, della parrocchia di San Lorenzo a Cogorno. L'ingresso, come detto, sabato alle 15. Si è concluso il percorso di formazione riservato ad educatori e genitori, che è stato promosso dal servizio di pastorale giovanile della Diocesi di Chiavari. Matteo Santini, della comunità Papa Giovanni XXIII, ha affrontato il tema di come amare il prossimo. L'altro da amare non abita molto distante da noi. Sono la famiglia, i giovani, gli amici, i parrocchiani, i poveri. Sono le risposte date ieri sera dai partecipanti all'ultimo incontro formativo promosso dalla pastorale giovanile. Dunque, l'altro è qui, è vicino e può cambiarci la vita, se solo ci apriamo al prossimo. La risposta è di Matteo Santini, della Papa Giovanni XXIII di Fano, nelle Marche. In diretta streaming ha raccontato di come l'aiuto portato dalla comunità di Dombensi al campo Rome di Faenza gli cambiò la vita. Aprirsi all'altro e condividere dunque il primo passo. Mi piaceva lo stile che mi stava proponendo la Papa Giovanni perché mi proponeva un modo di condivisione di vita. Il servizio, la condivisione e l'attenzione all'altro si fa stile familiare, stile di comunità. Io ho incontrato questa comunità che è un'espressione della bellezza dei carismi cristiani. Aiutare l'altro, dice Santini, provoca dei sentimenti. I presenti via web all'incontro li hanno elencati, alcuni positivi come gioia, desiderio, gratitudine e serenità, altri negativi come paura, insicurezza e vulnerabilità. Quel che è certo è che aiutare l'altro non è facile e ha le sue difficoltà. Andare incontro all'altro con tutte le buone intenzioni, poi l'altro non è detto che ti risponda. Anche se tu vai lì a portare cose oggettivamente buone, poi non è detto che l'altro poi ti risponda. Ecco perché mi stupì tanto la risposta di Don Oreste perché mi disse guarda, ecco ci sono dei poveri a cui devi solo stare accanto, a cui non puoi pretendere nient'altro che questo. A me mi spiazzò e mi ha anche cambiato la vita questa risposta perché mi ha messo tutto in un dinamismo interiore che mi ha fatto aprire gli occhi anche un po' sui miei limiti in cui io mi ponevo. Che cosa andavo a portare io? Andavo a portare me stesso o andavo a portare altro? Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.